Musica Giornata di mobilitazione per la sanità sarda, protesta davanti al Consiglio regionale a Cagliari per fermare la riforma, si tina a Sassari per lo sblocco del turnover. Sulla crisi a Palazzo Ducale intervengono i riformatori sardi che chiedono di sapere come potrà essere governata la città senza una giunta. La frequenza degli incidenti nell'incrocio di Predanieda tra la strada 14 e la 15 è allarmante, uno scontro ogni due giorni servirebbe un intervento risolutivo. TG di Canale 12, buonasera e bentrovati, edizione serale che apriamo con la sanità, l'avete sentito dagli strelli del nostro sommario, giornata difficile per la sanità sarda, mobilitazione da nord a sud. Partiamo dalla protesta davanti al Palazzo del Consiglio regionale a Cagliari dove si è data appuntamento l'intera sanità isolana, sotto tutte le sigle sindacali, per chiedere di fermare e rivedere la riforma regionale. Il timore più grande è quello di perdere ospedali e presidi territoriali. Ultima chiamata prima che la riorganizzazione della rete ospedaliera venga approvata dall'Aula in agenda prima della pausa estiva. Vediamo. Mobilitazione della sanità Le più basse d'Italia. Vogliamo la cancellazione delle liste d'attesa, ora si aspetta mesi, dicono i rappresentanti sindacali. Uno sciopero contro Italia e le riduzioni dei servizi sul territorio in una riforma sbagliata e pericolosa. Così i sindacati Funzione Pubblica di CGL, CISL-FP e UIL-FPL si sono dati appuntamento a Cagliari. Lo sciopero era stato annunciato poche ore dopo il via libera in Commissione Sanità del Consiglio regionale, alle linee di indirizzo per redigere gli atti aziendali della ASL Unica, la cosiddetta ATS, delle due aziende ospedali e universitarie di Cagliari e Sasseri e dell'azienda Abrozzo che hanno creato non pochi malumori. Mobilitazione unitaria della sanità sarda che ha visto la partecipazione di oltre 4.000 persone. La lista delle richieste è lunga, in cima, lo stop ai lavori in Commissione Sanità. La riforma serve ma non è questa, dicono i rappresentanti sindacali. Altre regioni sono partite da una cornice territoriale, lo hanno fatto prima usando il bisturi su sprechi. Il personale sanitario chiede risposte e cambiamenti a questa riforma e lo chiede con urgenza, dato che la riorganizzazione della rete ospedaliera dovrebbe essere approvata dall'Aula entro la pausa estiva. Sitin di protesta, siamo ancora sulla sanità, anche a Sassari davanti alla sede della ATS, dove i lavoratori del comparto sanità sassarese hanno manifestato contro i tagli al personale, lo sblocco del turnover, l'incorporazione dei lavori ex IPAB San Giovanni Battista e la contestazione del ricorso al lavoro interinale. Vediamo. Sitin di protesta nella sede della TS Sardegna di Sassari, via Catalochino. I lavoratori della sanità sassarese riuniti sotto le sigle sindacali Fialz, Nursind, FSI, USAe, si sono radunati per contestare la gestione della sanità sarda, sul fuoco questioni ormai annose dalla incorporazione dei lavoratori ex IPAB San Giovanni Battista Ploaghe, stabilita dal decreto regionale numero 32 del giugno 2016, alle stabilizzazioni e scorrimento delle graduatorie, passando per la contestazione del ricorso al lavoro interinale, che mortifica gli idoni e i disoccupati delle graduatorie. Protesta anche sulle procedure di mobilità extra-regione, per la quale si è siglato un accordo regionale che alcune AS pare stiano puntualmente risattendendo ed anche su quella intra-regionale. I sindacati chiedono di dare esecuzione reale dopo ben tre anni allo sblocco del turnover per porre fine alla carenza di personale in tutta la regione ed ancora si chiedono risposte sul pagamento della produttività 2016 e delle dialisi estive, sempre dello stesso anno, e sull'attribuzione fasce fondi 2015-2016. L'obiettivo, sottolineano le sigle ai sindacali, è quello di puntare ad una sanità a misura di cittadino e alla portata di tutti contro i tagli ai servizi e a favore dell'aumento delle prestazioni sanitarie, cercando di rimediare l'immenso caos che regna nelle aziende sociosanitarie locali. E siamo alla politica locale, i riformatori sardi intervengono sulla crisi a Palazzo Ducale in attesa di novità che potrebbero arrivare già domani sera con il vertice del PD convocato per le 19.30. Michele Solinas e Vincenzo Corrias chiedono chi governa la città in queste settimane senza giunta. Vediamo le interviste raccolte da Luca Foddai. Chi sta amministrando Sassari in questo momento? E quando sarà trovata una soluzione alla crisi politica che investe il Palazzo Ducale? I riformatori sardi pongono una serie di interrogativi, partendo da alcune riflessioni. L'impressione da coordinatore di partito, ma anche da cittadino degli ultimi tre anni di Sassari, è quella di una città non amministrata. Forse qualcuno non si era neanche reso conto che in questo momento non ci sia neanche la giunta. Non si sono resi conto i sassaresi probabilmente che manca un vice sindaco da cinque mesi, che mancano molti assessori da qualche mese e che negli ultimi tempi sia stata azzerata completamente la giunta. Penso che i sassaresi abbiano la necessità di capire dal nostro sindaco quali siano le reali intenzioni per i prossimi mesi o per i prossimi anni di mandato. Non si capisce bene. Forse i consiglieri comunali di Sassari stanno pensando alla propria poltrona, discutono commissario sì, commissario no. Ma chi è che sta realmente pensando ai problemi della città? Probabilmente si parla di commissario perché i nostri amministratori hanno paura della prossima discesa dei candelieri. Come definirlo, quello che sta accadendo, se non un accanimento terapeutico che si sta consumando all'interno del Partito Democratico? E oltretutto in danno di una comunità che ha il solo torto di aver eletto questi consiglieri nella convinzione che avrebbero ben operato per il bene della nostra città. Noi per la verità, come riformatori, in più di una circostanza abbiamo dimostrato il contrario e comunque sia tutto questo appare in qualche modo anche aggravato dalla condotta di quei consiglieri, sempre del PD, eletti a livello regionale che con le loro iniziative e le loro decisioni hanno in più di una circostanza penalizzato questo territorio. Il sindaco di Sassari, Nicola Sanna, ha espresso le sue perplessità sul provvedimento regionale che prevede l'abbattimento dei gruppi 1 e 2 di Fiume Santo con cariche esplosive. Le polveri che si solleverebbero potrebbero essere altamente inquinanti per gli abitati circostanti. Sentiamo Sandra Sanna. Il comune di Sassari non ha ricevuto alcuna comunicazione dalla regione per partecipare al procedimento sulla scelta di abbattere i gruppi 1 e 2 di Fiume Santo con cariche esplosive e in ogni caso non accetteremo che simili decisioni siano prese senza che siano concordate con il territorio. Il sindaco Nicola Sanna commenta così la notizia che l'assessorato regionale all'ambiente ha dato il via libera al nuovo piano di decommissioning. Il primo cittadino ha quindi iscritto al Ministero dell'Ambiente, al Presidente della Regione Francesco Pigliaro, all'assessore all'ambiente Donatella Spano affinché si provvede da immediatamente la sospensione del provvedimento di cui non è dato conoscere l'esatto contenuto e che si avvia un procedimento per riesaminare la questione. Le preplessità di Sanna derivano dalla relazione datata 16 marzo scorso dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, in cui si esprimevano forti dubbi all'utilizzo delle cariche esplosive per la demolizione, in quanto si produrrebbero polveri che potrebbero trascinare sostanze ad alto carattere inquinante, quale idrocarburi policiclici aromatici, diossine e probabilmente amianto, tutti composti che nell'arco di anni si sono accumulati nelle pareti interne delle canne fumarie. Polveri che spinte dal vento interesserebbero una vasta zona e andrebbero a colpire gli abitati circostanti dei comuni di Sassari, Porto Torres e Stintino. E siamo alla cronaca, ancora un incidente nel pericoloso incrocio di Predanieda tra la strada 15 e la 14. Due feriti e il bilancio dello scontro di questa mattina ingenti i danni ai mezzi. di una frequenza allarmante che imporrebbe un intervento risolutivo prima che si verifichi il peggio. Vediamo. Una scena che purtroppo si ripete quasi ogni giorno e che provoca ingenti danni ai mezzi e il ferimento degli occupanti delle autovetture coinvolte. Questa mattina all'incrocio di Predanieda tra la strada 14, 15 e 9 l'ennesimo incidente che ha visto coinvolte una Volkswagen Polo condotta da una ragazza di 30 anni e una Mercedes classe A con a bordo due ragazzi di 25 anni. Ad avere la peggio è stato il passeggero, il giovane è stato infatti trasportato al pronto soccorso con la sospetta frattura di alcune costole. La dinamica è sempre la stessa, la mancata precedenza della Polo che dalla strada 14 non ha rispettato lo stop e si è messa sulla strada 15 andando a scontrarsi con la Mercedes. Sul posto per i lievi del caso una pattuglia della polizia locale, i vigili del fuoco per scongiurare eventuali incendi e un'ambulanza del 118 che ha trasportato al pronto soccorso sia la conducente della Polo in stato di shock che il passeggero della Mercedes che è subito apparso il più grave tra i soggetti coinvolti. Uno scontro che si è verificato in pieno giorno e che ormai si ripete con una frequenza allarmante. Le dichiarazioni degli automobilisti sono sempre le stesse, lo stop non è visibile e chi procede sulla strada 15 spesso non rispetta il limite urbano. La frequenza agli incidenti sullo stesso incrocio non può essere ricondotto solo all'imperizia degli automobilisti, occorre intervenire il più presto per evitare il peggio. Un altro incidente si è verificato in mattinata all'incrocio tra Viale Dante e Viale Torres. In questo caso è stato un taxi a non rispettare lo stop, travolgendo un motociclista che è stato trasportato all'ospedale con un'ambulanza. Anche in questo caso sono intervenuti gli uomini della polizia locale e i vigili del fuoco. Ci spostiamo a Porto Torres che vive un degrado che sembra inarrestabile, ben evidente nell'antico quartiere di San Gavino con la splendida basilica che avrebbe bisogno di urgenti restauri. Nando Nocco, attivista culturale e bainzino, ha voluto sensibilizzare la città sul problema con una iniziativa originale. Vediamo. Il degrado a Porto Torres si vede in ogni angolo di via, specialmente nel quartiere storico bainzino con la sua basilica unica al mondo per le particolarità architettoniche. La facciata e le sue componenti avrebbero bisogno urgenti di restauro, ma nessuno fa niente. Nando Nocco, porto torrese bainzino, nato e cresciuto nel quartiere dove ha una casa, non sopporta il degrado di strade e monumenti ai quali ha dedicato la propria vita artistica e sentimentale. Così ha pensato di sensibilizzare al problema amministrazioni, istituzioni con cittadini con una mostra di foto appese ai fili da stendere in un vicoletto accanto alla chiesa. Sì, la situazione è gravissima perché stiamo rischiando veramente di perdere un patrimonio storico della città, che è il compendio di San Gavino. Non ce lo possiamo permettere. Non è un degrado di questi ultimi anni, ma è un degrado da sempre. Quindi noi pensiamo che sia il momento di dire basta e recuperare quella sensibilità e quel senso di appartenenza che questa comunità deve avere. Quindi è necessario impegnarsi e far sì che l'amministrazione sia quella attuale, ma tutti i soggetti che sono interessati a far sì che non si perda la propria identità, si mettano a un tavolo per tentare di recuperare soprattutto la parte finanziaria per far sì che questa basilica, ma tutto il compendio, questo patio che sta cadendo a pezzi, riprendano a vivere. Far sì che la gente ritorni a innamorarsi di questo quartiere, ma di tutta la città, chi non conosce le proprie radici e chi le abbandona così come sta avvenendo, beh, non avrà neanche un futuro. E siamo alla pagina di Cultura e Spettacolo. Sabato prossimo a Sassari l'orgoglio delle diverse manifestazioni della sessualità. Dara vita alla prima edizione cittadina del Sardegna Pride nella nostra intervista a Massimo Male del movimento omosessuale sardo ci spiega l'importanza sociale della manifestazione. Marco Sanna. La diversità come valore. L'identità sessuale di ciascuno non è chiusa dentro le categorie culturali, ma emerge nell'intimo della persona e nelle relazioni, esprimendosi in tante forme anche se non sempre ne riconosciamo il sentimento. Il Sardegna Pride è la liberazione della propria personalità emotiva nell'incontro con tutte le diversità possibili, proprio per sentirsi uniti in quel milieu di sentimento comune che chiamiamo amore. Il prossimo 8 luglio il Sardegna Pride, dopo le manifestazioni di Santa Teresa e Alghero, approda Sassari. Ne abbiamo parlato con uno degli organizzatori, Massimo Male del MOS. Il primo Sardegna Pride nella nostra città è una manifestazione regionale nata cinque anni fa, organizzata dal coordinamento sardo delle associazioni lesbiche, ghebi, sessuali e transgender. È una manifestazione inclusiva che negli ultimi anni si è aperta a tutte le realtà politiche e associative di volontariato del nostro territorio, che è per le libertà e i diritti di tutti e tutti. Ci sarà un grande corteo per le strade di Sassari con dei carri allegorici con la musica, poi ci saranno le associazioni con gli striscioni. È la piena libertà per chiunque di esprimersi nel modo in cui vuole, perché questa è una manifestazione di liberazione, uscire dalla paura, dalla vergogna, dalla violenza, per entrare in un mondo di riconoscimento reciproco, di rispetto, di amore. Noi vogliamo che la gente scenda in piazza e si diverta e attraverso il divertimento e la conoscenza reciproca superi la paura e la diffidenza. Quindi speriamo che sia una grande festa per la nostra città. E siamo alla musica, un debutto discografico con i fiocchi, quello di Roberto Tola che con il suo album Bane Green sta letteralmente volando nelle classifiche americane. Noi che abbiamo avuto il piacere di presentarlo in anteprima, oggi lo abbiamo risentito. Ico Ribichesu. Un successo inaspettato per il primo disco di Roberto Tola, Bane Green scala le classifiche degli Stati Uniti d'America. Ai nostri microfoni l'autore Sardo. Ancora non ci credo, mi sembra un sogno, visto che dal 29 maggio, quando è stato pubblicato il disco, a oggi è passato poco più di un mese, mi ritrovo a scalare classifiche delle più blasonate, americane, per cui devo reggere un po' il colpo perché mi trovo tra mostri sacri del jazz internazionale e il mio nome gira, mi chiamano, mi cercano, per cui grande soddisfazione e in credulità ancora devo un po' metabolizzare. Questo forte senso di identità Roberto? Se ne parla tanto dell'insularità, di questo nostro sentimento verso la Sardegna, di appartenenza verso l'isola, anche recentemente con il bandieramento dei quattro mori da parte di Auro, con il quale mi congratulo ovviamente, per me è uguale, mi viene distinto sentirmi prima sardo e poi italiano ed europeo e anche globale, per cui anche in questa mia avventura musicale non ho potuto non considerare la mia isola che mi ha ispirato addirittura, per cui si sente, è descritta anche nel disco, c'è un brano addirittura che si chiama Sardegna Dream e sta uscendo fuori perché quando le varie radioamericane mi presentano, annunciano un brano, lo annunciano così, con Roberto Tola, chitarrista della Sardegna. Ed ora ci fermiamo un istante per il break pubblicitario, lo troviamo tra pochissimo con la pagina sportiva. Restate con noi. Torniamo in studio per la pagina sportiva, in primo piano il calcio femminile continua con grande successo il Camp Clinic del Real Madrid, in collaborazione con la Torres Calcio Femminile siamo andati ad ascoltare le sensazioni di uno dei due allenatori spagnoli che seguono i giovani calciatori e calciatrici che inseguono le loro passioni e soprattutto i loro sogni di poter diventare un giorno galaticos. Vediamo. Grande successo per il Clinic Camp del Real Madrid. Ai nostri microfoni uno degli allenatori iberici impegnati con i giovani atleti sassaresi, Patrick Zars. Bene, molto bene. Fa molto caldo. Io sono di Barcellona, sì che il caldo è come Barcellona, però la città è piccola, è bella, è bella, i padri, i mami, i papi, la famiglia, è molto amabile, i bambini molto bene, il livello top, sì che molto contento. È una opportunità per tutti i bambini di Europa di entrare come entrare in Real Madrid, in la fabrica, come si dice, l'Academia Real Madrid. E, bueno, è una opportunità, siamo in Alemania, Italia, Francia, Austria, Inglaterra, Holanda, Belgique, siamo in tutta Europa e per i bambini è genialo poter entrare come i professionali e noi siamo molto contenti di poter approfittare. Questo è difficile, questo di un anno per l'altro cambia, però sì, qui il livello è molto buono, qui ho stato in Alemania, ho stato in Francia e in Austria e qui il livello è molto alto, ti devo dire, e perché no? Hai che luchare per i sogni. Ed era questo l'ultimo servizio per questa edizione, non ci sono aggiornamenti dell'ultimo ora io mi fermo qui, vi ricordo che potrete rivedere questa edizione del nostro telegiornale sul sito canale12.it e l'intera nostra programmazione dei vostri smartphone o tablet attraverso wifitv.tv, inoltre se siete in possesso di un decoder sky ci trovate al canale 5012. L'informazione torna domani mattina alle ore 7 come di consueto, non dimenticate la striscia informativa delle ore 14, la spazio delle notizie nazionali curate dall'agenzia di stampa ADN Cronos, il telegiornale come sempre torna domani alle 19.45, vi ringrazio l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie.